Il derby a Natale non si era mai visto, ma se non si trattasse della stracittadina di Basket City, tutto potrebbe essere normale. Ma questo è il ritorno della sfida tra Virtus e Fortitude in massima serie a dieci anni di distanza dall'ultima volta. Bianconeri da una parte, bianco-blu dall'altra. Una rivalità così sentita che per un giorno in alcune famiglie ci sarà una netta linea di demarcazione del tifo. E chissà come ci si guarderà nelle stesse tavolate tra parenti che condividono fedi cestistiche opposte in occasione del tradizionale pranzo del 25 dicembre. Poche ore più tardi, infatti, ognuno andrà per la propria strada, o da una parte o dall'altra, senza mezze misure. Un po' come a Siene in occasione del Palio. Sarebbe sbagliato catalogare la stracittadina come un semplice evento sportivo? No, è molto di più. Poter dire io c'ero è un altro degli sport che va più di moda. Stavolta poi sarà una sfida per 9.000 tifosi nell'inedita cornice del Palafiera. La Virtus ha fatto sapere che l'abituale ingresso di Via Calori del Paladozza si trasformerà domani sera in quello di Piazza della Costituzione, mentre chi entra da Via Nannetti potrà accedere all'impianto dall'ingresso principale nord. Quanto alla Fortitudo, l'ingresso per i tifosi bianco-blu sarà quello di Via della Fiera 20, dove si fermeranno anche quattro pullman messi gratuitamente a disposizione dal club e che partiranno insieme a quello della prima squadra alle ore 18.30 da casa Fortitudo. L'attesa finalmente sta per terminare. Buon derby a tutti, un evento che la nostra emittente presenterà questa sera nel corso della trasmissione Basket City e che sarà raccontato domani, minuto per minuto, con uno speciale che prenderà il Via alle ore 18.50. Grazie.